Ma sappiamo che mancano poche partite e ora non dobbiamo volare, perché la Roma ancora è lì. È vero che non dobbiamo guardare nessun'altra squadra, solo noi stessi, perché sappiamo che se giochiamo ogni partita come sappiamo farlo, con alta intensità, essendo aggressivi, siamo una grande squadra e possiamo vincere sempre. Sì, è vero, due anni fa ho perso la finale, quindi è una spina che c'è clavata dietro nella schiena, quindi mi piacerebbe tanto. Però dobbiamo andare con tranquillità partita dopo partita, sappiamo della difficoltà che ha l'Europa League, non dobbiamo pensare che è fatta già questa eliminatoria con Lyon, dobbiamo ancora fare una grande partita qua nel Juventus Stadium e speriamo passare.